Buonasera Gobbi, buonasera Gobbe, allora bentornati sul mio canale, video un po' inaspettato però mi trovo in dovere, nell'obbligo di fare perché purtroppo ho un viziaccio, non riesco a stare zitto ma soprattutto non riesco a esprimere il mio pensiero quando vedo qualcosa che non mi piace. Voglio parlare di servilismo e giochi di potere. Sabato e domenica abbiamo assistito a delle cose alquanto strane e a cui tutti tacciono o comunque sia non danno importanza. Partiamo da domenica, quindi da ieri sera. Il Napoli in questo momento per me è una squadra ingiocabile, gioca bene, non gli segni o comunque sia se gli segni loro ne fanno uno in più, merita il primo posto in classifica e io riesco ad ammetterlo, a differenza magari di qualche tifoso napoletano che quando c'è la Juve davanti ha sempre un po' di magore. Io comunque sia, anche se il Napoli è una squadra rivale che non mi sta simpatica, ammetto che in questo momento merita il posto che ha. Ieri a fine gara, Giuseppe Morigno si lamenta, si lamenta dell'arbitraggio di Rati, si lamenta senza aver fatto un tiro in porta. Io non riesco a capire come un allenatore si possa lamentare senza aver tirato in porta. Però perché si lamenta? Della gestione arbitrale. Ragazzi, io purtroppo poi gli interlocutori che parlano con Morigno, per questo dico sono servi perché Morigno fa un gioco di poteri e dall'altra parte ci sono i servi che sono predisposti al silenzio e devono accogliere la protesta di Morigno non dicendo nulla. Allora Morigno vince la coppa dei perdenti, la coppa dei settimi posti senza fare un tiro in porta perché fa mezzo di non porta con Zaniolo. Al Feyenoord non viene concesso un rigore clamoroso e prende due legni e Rui Patrizio fa due miracoli e Morigno lì dice ce la siamo meritata, è una coppa meritata, abbiamo meritato di vincere. Quindi già un po' un controsenso, però Morigno lo sappiamo è un po' l'uomo dei controsensi. Irrati, ieri viene criticato, in Juve Roma e Morigno nel post gara risordisce parlando di Irrati come grandissimo arbitro e Megoglioni praticamente gli tiene in vita la partita. Nel primo tempo non concede il gol a Logatelli per uno sfioramento di braccio di Vlaovic spinto, ricordiamo spinto perché viene spinto da Matic, Vlaovic fa di tutto per evitare il contatto, l'azione prosegue, Logatelli fa un grandissimo gol e al VAR vanno a vedere anche i peli del culo quando si tratta della Juventus e quindi annullano il gol. In più ci sono due falli di mano di Smulling, uno in caduta diciamo lasciamo perdere, un colpo di pugno davanti alla testa, però lì Marelli disse che era una palla in attesa, arrivata al fondo in attesa e che cosa fa Morigno? Dice che Irrati è un grandissimo arbitro, c'è un grandissimo arbitro, viene in vita la partita, poi Alessandro Sardorme di Bala la mette dentro e Abram segna. Lui nel postgala deve far per forza i pompini e i rati per distogliere l'attenzione dal zero tiri in porta che naturalmente però il servilista Pierluigi Pardo si scorda di menzionare durante Roma-Napoli perché dice la Roma per la prima volta nel primo tempo fa zero tiri in porta. No, non è vero caro amico mio perché anche a Torino con la Juventus fece zero tiri in porta. Se vuoi andare a vedere invece di fare lo schiavo del sistema vai a ricontrollare i primi 45 minuti di Juventus-Roma vedrai alla casella tiri in porta della Roma zero però per questo io vi dico che c'è servilismo e giochi di potere. Quindi il signor Morigno, il grandissimo Morigno che in conclusione esce da Torino con un punto in più e due meno la Juventus. Col Monza sul 2-0 c'è un rigore clamoroso negato per fallo di Mancini a Pessina sarebbe stata una chiara occasione da golla e Mancini dovrebbe essere stato anche ammonito. Poi nulla di fatto e la Roma va sul 3-0 e lì naturalmente Morigno non dice nulla. Con il Lecce per salvare la Roma a Lecce gli viene espulso un giocatore in maniera assurda, un non fallo e poi il Lecce in 10 uomini riesce a pareggiare per non rischiare. Abram aggancia la gamba di un difensore e viene dato un rigore alquanto dubbio come il rigore di Genova per forse un fallo d'unghia che impercettibile deviazione di mano che però al Var. Giustamente tutti dicono che il rigore c'era. E quindi torniamo al servilismo e giochi di potere perché io vorrei sapere se il rigore fosse stato assegnato alla Juventus che cosa si sarebbe detto. Ma servilismo e giochi di potere vanno di pari passo. Poi arriverò al dunque dei giochi di potere. Io ricordo che questo video su Morigno e su quelle frasi post Juve-Roma le dissi subito in quel video perché Morigno è questa la sua tattica. In conclusione la Roma a campionato regolare avrebbe 15 punti. Morigno cosa deve fare? Deve nascondere l'ovvio e quindi come lo nasconde? Nel miglior modo che sa fare. Crearsi nemici e accusare sempre la classe arbitrale di andarli contro. Quando non è palesemente vero perché all'allenatore portoghese la classe arbitrale ha sempre fatto i pompini a partire da quando stava all'Inter, al Real Madrid e alla Roma adesso perché Morigno è un allenatore aiutato da sempre dagli arbitri. All'Inter, al Real, alla Roma. Ma sono squadre che sono sempre aiutate storicamente dagli arbitri Real, Inter e Roma. Quindi Morigno va sempre dove si può lavorare in tranquillità con gli arbitri e avere i favori che servono per nascondere le pecche di un allenatore che è mediocre. Perché l'allenatore è Allegri. Allegri, a differenza, non si lamenta degli arbitri e avrebbe modo di lamentarsi degli arbitri. Allegri con i 19 punti attuali della Juventus, 2 in più con la Roma, 2 in più con la Salernitana, ne avrebbe 23 e la Roma ne avrebbe 15. Allegri darebbe 8 punti a Morigno a classifica regolare. A classifica regolare ci sono 8 punti tra Juve e Roma. La Juventus fa schifo, la Roma fa schifo. La Roma è aiutata, la Juve no, anzi è danneggiata. Sottile ma grandissima differenza. Perché poi la Roma fa schifo e voglio ricordare che in tre gare con avversari di livello, comunque tre scontri diretti, la Roma con il Damori fa 0 tiro in porta, con la Juventus fa 1 tiro in porta, con l'Inter fa 2 tiro in porta. Riesce a ottenere praticamente 3 punti, anzi 4 punti scusate. Con l'Inter la Roma non meritava di vincere, con la Juventus non meritava di pareggiare, con il Napoli non meritava di vincere, non meritava di pareggiare e ha perso giustamente. Però purtroppo il calcio viene raccontato soprattutto dai media e da chi intervista poi gli allenatori che si permettono di continuare a dire stronzate e loro con la testa fanno così perché sono servi. Perché un interlocutore, interlocutore degno di tale nome, quando ieri sera Morigno ha cominciato a delirare sulla gestione dei cartellini arbitrali del signor Irrati, che poi a me non mi sta simpatico, anzi ce ne sono tante perché Juve e Inter dello scorso anno possiamo parlarne di campionato, Juve e Roma di quest'anno possiamo parlarne tanto, quindi se Morigno attacchi Irrati a me me ne frega niente, ma se lo deve attaccare è perché ha fatto un qualcosa Irrati. Ieri Irrati non ha fatto assolutamente nulla, anzi ha graziato Smalling di un rosso perché era già munito in downcalcio sotto al mento a Osimem che per la prima volta in vita sua non si rantola cinque volte per terra ma continua perché aveva la possibilità di andare a prendere il pallone, ma quello era un doppio giallo perché è un gioco pericoloso che mette al rischio l'incolumità dell'avversario. Quindi purtroppo io se ero in studio avrei detto caro Morigno in Juventus Roma il Rati ti andava bene, lo hai elogiato, forse perché ti ha salvato la partita, oggi no, non ti ha salvato la partita quindi non lo elogi. Purtroppo bisogna essere anche un po' furbi per andare a fare una dichiarazione a distanza di così poco tempo ma perché prima faceva comodo in un modo e adesso fa comodo in un altro e comunque sia il servilismo è sempre a disposizione dei giochi dei poteri fino a quando non si tratta di Juve va sempre bene perché poi torniamoci chiaro qui chiedono scusa un po' tutti viene fermato Valeri e poi arriviamo a Valeri adesso perché l'altro gioco dei poteri viene fermato quell'altro, viene fermato quello, si chiede scusa ai squadri, si chiede scusa a quell'altro. Juve Sarismitana però non si è chiesto scusa. A Juve lì, a Juve non si chiede scusa. Passiamo a sabato sera perché c'è da ridere pure sabato sera. sabato sera l'ennesimo scandalo pro Inter ormai. Cioè se qualcuno non aveva capito che lo scandalo vero del calcio mondiale si chiama Inter sabato abbiamo avuto un'ulteriore prova. Forse qualcuno comincerà a pensare un po' di dubbi che la storia questo quell'altro. Purtroppo loro l'hanno raccontata sempre in maniera diversa e viene riportata per comodo in maniera diversa. Ma la verità è il Rati, Valeri, Doveri, chi se manda se manda. A storia è sempre quella, è sempre indirizzata. Salviamo l'Inter per il servilismo e per i giochi di potere. L'importante è che fanno il vostro dovere. Vi dico qualche dato. Valeri nelle ultime sette gare che ha arbitrato l'Inter ha dato sette rigori. Ogni partita ha un rigore all'Inter. Con Valeri l'Inter va sul sicuro. Non si può sbagliare. Basta che c'è Valeri e rigore. L'Inter non subisce un cartellino rosso da due anni. Io ritorno a dire che l'Inter è in campo. Brozovic, Barella, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Aleva Vital. L'Inter ha della gente che mina. Skriniar ormai è autorizzato praticamente. Quando ha l'avversario che stoppa la palla da dietro, Skriniar ormai si è imparato a entrare con la spalla a 300 all'ora sulla schiena d'avversario, lasciandolo senza fiato per terra. Non ne fischiano più un fallo. Skriniar, ho visto le statistiche, Skriniar, Bastoni e De Vrij, in tre c'hanno un giallo. Un giallo. All'undicesima giornata del campionato è scandaloso. Se Di Marco, dopo che ha tentato di spaccare una gamba, al povero Jack Bonaventura non prende il rosso su una revisione al VAR che dà rigore, è da carcerarli tutti. È da carcerarli tutti. Se Dzeko, se Dzeko si permette da spostar Milenkovi, ci tira gli la maglietta, dagli una comitata e vanno a far 4-3 e non se di VAR VAR, è da carcerarli. È da carcerarli. Però, quando finisce la partita, un po' di studio se ne parla perché sta totalmente scandaloso che un po' se ne deve parlare, arriva Inzaghi e si parla di tutt'altro. De che si parla della grinta dell'Inter da rimonta. Ma quale grinta? Ma quale rimonta? Hai rubato? Hai rubato? Che rimonta? Che rimonta? Quale rimonta? Hai rubato? Pennesima volta in stagione hai rubato. Pennesima volta durante gli ultimi vent'anni hai rubato. Perché rubi sempre? Perché sei sempre favorito dall'arbitro. E perché? Perché se non arrivi nei primi quattro, se non te fanno vincere, fallisci. Fallisci. Perché sei pieno di buffi. Quindi una squadra come l'Inter un po' fallisci. Quindi deve essere aiutata. E io lo sostengo da tanto questo, ragazzi. Io ve lo dico da tanto. Ma adesso però è diventato troppo palese. Perché fanno finta di niente. Perché non se ne parla. Non se ne parla del clamoroso errore di Di Marco. Scusate, di Valeri che non butta fuori di Di Marco. Non se ne parla. Lo mettono a tacere. Lo mettono a tacere. Fanno finta di nulla. E questa è una cosa che, per me, è un gioco di potere abbinato al servilismo. Perché? È scandaloso. Comunque, Valeri è stato fermato, sospeso per una giornata. Io non capisco perché. Perché ha lavorato bene per l'Inter. Ha prodotto quello che doveva produrre i tre punti all'Inter. Perché fermare Valeri? Forse per tenerlo a riposo e magari farlo arrivare il 6 di novembre in forma per il big match contro la Juventus. Probabile che magari o lì, o lo dica adesso, Valeri, Doveri o Irrati? Uno di tre. E se, vedi che la verità, se arriva Valeri o Irrati, l'Inter ha un rigore. Se arriva Doveri, l'Inter ha un rigore. Perché tanto, comunque sia, ogni volta il Giovo Montrelore, c'è uno di questi tre, c'è sempre un rigore. Quindi tranquilli. Non ci saranno espulsioni a favore per la Juventus. Ma sicuramente ci potrebbero stare molti gialli per noi, perché noi picchiamo tantissimo. Loro no. Andremo su questa farsa riga di un'altra, innesima farsa targata internazionale. Era doveroso perché, ragazzi, sto vedendo troppe cose che mi danno la nausea e il vomito, soprattutto come viene raccontato il calcio. Intanto stasera, ricordate, c'è a Roma, il Festival del Cinema, Ergo De Turone. Come siamo messi qua, ragazzi. Però, questo è il calcio che piace a loro, è questo. Io lo lasciamo, però non ho capito ancora se era buono o no Ergo De Turone, però so che Carlo Sassi ha detto che la moviola è stata truccata proprio perché reale polemica. Ognuno crede a quello che vuole. Ricordando che in quella partita la Juve giocò per buona parte del secondo tempo e una parte del primo tempo, in dieci per l'espulsione di Furino e aveva squalificato Roberto Bettega, che in quel momento era l'attaccante di punta della Juventus, per una squalifica retroattiva che risaliva a tre giorni prima, mai applicato nei campionati a quel tempo perché non era un uso fare squalifiche retroattive. Però, dato che la Juve era avvantaggiata e tu aveva vincito con il futetto, che fai? Gli elevi Bettega e Furino a fine primo tempo e giochi tutto il secondo tempo in dieci, poi devi favorire la Juve in qualche modo, lo devi favorire. Intanto aveva la moglie Bettega e Furino, poi la favorire. Però, quando la gente vuole raccontare il calcio a modo loro e non sa un cazzo di quello che è successo, ma lo tramanda solo per beceri ricordi e fantomatiche millanterie di storie mai esistite. Fino alla fine, sempre forza Juve!